Ti presentiamo il nuovo Kindle Paperwhite, più sottile e leggero che mai. Ora è anche resistente all'acqua. Con un design moderno ed elegante e il doppio dello spazio di archiviazione, Kindle Paperwhite è stato progettato per l'uso quotidiano, così potrai leggere e rilassarti in molti più luoghi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.